Allora, buongiorno a tutti, andiamo ad analizzare la partita di ieri, Inter-Lazio Una partita che dimostra una cosa, l'Inter è in ripresa a livello fisico Sta bene, è una delle poche squadre che sta bene in campionato Dopo aver avuto due mesi di appannamento tra febbraio e marzo, anzi due mesi e mezzo perché ci mettiamo anche a metà aprile La squadra mi sembra che stia ricarburando di nuovo Non si vincono, tre partite chiudendo bene come ha fatto l'Inter negli ultimi tre Ad Empoli, se non si sta bene fisicamente Ad Empoli, primo tempo 0-0, secondo tempo dominato, 3-0 Contro la Juventus stavamo meglio noi, infatti l'Inter ha rischiato di raddoppiare più volte nel secondo tempo E contro la Lazio una rimonte devastante, nonostante, insomma, anche il primo tempo non era stato male Questo fa ben sperare per gli appuntamenti futuri Abbiamo 10 partite in un mese, un mese è qualcosa E quindi la squadra deve stare bene, deve stare bene fisicamente per poter competere su tutti questi fronti Su tutti e tre i fronti Diciamo che non ci si annoia, ecco, con l'Inter ultimamente non ci si annoia Perché è una squadra che, anche l'anno scorso, devo dire, con Inzaghi La squadra è arrivata in fondo a tutte le competizioni Ha perso la Champions League con il Liverpool per colpa del palo della luce in porta Che ha fatto due papere clamorose E dell'espulsione di Sanchez al ritorno Perché l'Inter aveva la possibilità veramente con il Liverpool di ribaltarla con la partita E per colpa di Sanchez non ci siamo riusciti Nonostante poi siamo andati a vincerli a Liverpool Ma alla squadra è arrivata in fondo a tutte le competizioni E quest'anno sarà lo stesso Se dovesse l'Inter andare in fine della Champions League Avrà giocato tutte le partite giocabili di una squadra all'interno di una stagione Ed è una cosa incredibile Nonostante la rosa dell'Inter non sia niente di che Arrivare in fondo a tutte le competizioni E provare a vingerla È una cosa importante Incredibile Certo il campionato si gioca per il piazzamento Perché il Napoli ha fatto un campionato a sé Un campionato a parte Gli va reso onore Anche se non l'ha chiuso ieri Perché insomma c'è un po' di braccino Però diciamo che nella Corsa Champions vedo l'Inter Vedo l'Inter messa bene a livello fisico Ora c'è questo infortunio di Gossens Alla spalla che non ci voleva Perché lì a sinistra c'è il solo di Marco Gossens era un cambio di Inzaghi E che venga meno Gossens è un problema Speriamo insomma che possa recuperare per le partite di Champions Sicuramente salterà Verona e Roma Non so se con il Milan Potrà essere già in panchina Tra 15 giorni Lo speriamo insomma Perché Di Marco Gossens è un cambio che Ieri ha fatto la differenza anche Ha recuperato una palla Per il pareggio di Martinez Ha fatto il gol del 2 a 1 Con una splendida Acrobazia Quindi Anche se fino adesso non aveva inciso tanto Ma Lasciare solo il solo di Marco sulla fascia È un problema serio Comunque Analizzando Un po' tutte le squadre che stanno in questo momento Giocando in Serie A Mi sembra che l'Inter sia una di quelle Che sta più in forma fisicamente E quindi sicuramente questa cosa Sarà importante Importante Da adesso in poi Per tutte le partite top Che andremo a giocare Adesso Mercoledì Abbiamo il Verona E A Verona Una squadra che si sta giocando la salvezza Quindi non sarà una partita semplice Anche se non è in gran condizione il Verona Devo dire Che ieri con la Cremonese Ha rischiato e forse meritava di perdere E poi abbiamo la Roma Sabato Anche qui la Roma Più che non è in gran condizione Mi sembra Cioè Ha grossi problemi A livello di infortuni Quindi è una squadra Molto rimaneggiata E poi abbiamo appunto il Derby Il Sassuolo E poi nuovamente il Derby Quindi saranno cinque partite Al Cardiopalma Ovviamente Con il Derby su tutte Ma anche gli altri devono giocare Quindi anche il Milan Il Milan Mercoledì c'è la Cremonese in casa Poi Alla Lazio in casa Il Derby poi va In Liguria con la Spezia Che è un'altra squadra Che sta infischiata sotto Per la Salvezza E poi c'ha nuovamente il Derby Quindi diciamo che Alla fine anche loro Devono Hanno i loro Bei grattacapi Certamente il calendario È un pochino più semplice Rispetto al nostro Soprattutto perché giocheranno La maggior parte Le partite a San Sino Solo una trasferta In Liguria Alla Spezia Per il resto Gioco tutto a San Sino Mentre noi saremo costretti A viaggiare Però è un Diciamo che Ieri Ieri si è vista Una grande Inter E guarda caso Zeko non ha giocato Io con tutto il bene Che voglio a Zeko Perché comunque sia È un attaccante Che è stato Un giocatore Che comunque è Molto abile Soprattutto Con i piedi Cioè è arrivato il momento In cui secondo me La panchina è anche troppo Nel senso che Ha dato il suo contributo Però Adesso basta Insomma Devono giocare Lukaku e Lautaro Le sfide più importanti Chiaro Zeko deve entrare Nelle rotazioni Come deve entrare Correa Che sta facendo Ribrezza e compassione Perché Ci sono tante partite In pochi giorni Ma le partite decisive Devono giocare Quei due Lukaku e Lautaro Quindi non Zeko E neanche Correa Adesso se a Verona Partono Zeko e Correa Va bene Va bene Così le altre riposano Per la partita di Roma Però Per la partita del derby E per la fine di Coppa Italia Zeko e Correa In panchina A centrocampo Diciamo che L'unica cosa che manca È Asilani Che non viene mai Messo in gioco Da Inzaghi Però Anche ieri Buona postazione di Brozo Finalmente Ritrovato Cialanoglu Sta tornando A giocare Come si deve E comunque Mkhitaryan E Barella Sono sempre al top Quindi il centrocampo Dell'Inter È molto cresciuto Ottimamente E si vede Proprio perché Riesce Ad appoggiare la squadra In tutte e due le fasi Sia in fase di copertura Sia davanti Dietro Purtroppo Siamo quelli che siamo Purtroppo Con l'assenza di Screener Acerbi ieri Ha combinato Un disastro Ma non si può Chiedere a un giocatore Di fare tutte queste partite Uno di 35 anni Che neanche Giocava la Lazio Quindi secondo me Acerbi e Darmianne Stanno facendo Già tanto Bastoni Vabbè Non capisco perché Non ha giocato De Vrij Probabilmente Giocherà a mercoledì E poi Onana 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 è il top Perché Onana È un portiere Che oltre ad essere Forte tra i pali E nelle uscite Onana Onana sa giocare Con i piedi Onana è Soprattutto un leader Un leader Di questa squadra Cioè uno che rumoreggia Da dietro Uno che si fa sentire Non è un morto Appeso Com'era Com'è quel faccia Da Merluzzaro Che abbiamo Abbiamo avuto In porta Per dieci anni E che gli vogliono Ancora rinnovare Il contratto A fare il secondo A questo qui Perché Perché dovrebbe stare Perché dovrebbe Ancora fare il secondo Questo tizio Non si può prendere Un portiere più giovane Non si può togliere La merda Dal nostro spogliatoio Ecco lui e Gagliardini Sono la merda Del nostro spogliatoio Perché non se ne vanno Cioè O meglio Gagliardini Quest'anno Qualche partita La ancora giocherà Perché Ovviamente abbiamo Bisogno di rotazione In mezzo al campo Andanovic Spero di non vederlo più Fino All'ultima partita Che noi giocheremo E spero che non verrà rinnovato Io non lo voglio più vedere Andanovic Così come non vorrò più vedere Gagliardini A breve Gli altri più o meno Diciamo Stanno dando tutto Tutto Quello che hanno Gossens Peccato Speriamo che riesca A riprendersi Perché è un giocatore Che se fisicamente A posto Può fare La differenza Ci vediamo Giovedì Per Il post Verona Inter Sperando che arrivino Altri tre punti L'interesso In campionato Ha il calendario più difficile Di quelle che sono impegnate Nella lotta Champions Perché ha quattro trasferte Due in casa Quattro trasferte Tra l'altro A Verona A Roma A Napoli A Torino E in casa Abbiamo solo Sassuolo E Atalanta Tra l'altro due partite Molto scorbutiche Quindi Il calendario è veramente difficile Però Se l'Inter gioca così Io penso che possa Possa abbatterle tutte Buona giornata